Leggo Raffaele Fazio da diversi anni e devo dire che è un poeta che ha una sua personalità e una sua verità molto umana da esprimere. E' un poeta che crede nel libro compiuto, non in una raccolta disorganica di poesie più o meno buone, ma al contrario in un libro strutturato in ogni sua parte, un libro quindi che deve presentarsi nella sua unità. Questo perché, io credo perché, come si evince da tutte le raccolte che ha pubblicato in questi anni, perché Raffaele crede nell'uomo. Sembra un'affermazione banale ma in realtà non è così, perché nel mondo contemporaneo siamo sollecitati da forze scure e da diversi secoli anche abbiamo la coscienza di vivere, la consapevolezza di vivere in un cosmo che non è fatto per l'uomo e dunque credere nell'uomo, credere nella dimensione della civitas, come dicevano i latini, diventa sempre più difficile. La poesia spesso nel Novecento è diventata appunto un esercizio di gemito, di lamento, oppure un esercizio di riflessione sul nulla del mondo e delle cose che ci circondano. Ebbene, Raffaele Fazio invece conserva in tutte le sue poesie sempre una fiducia profonda nei valori dell'uomo. Questo l'ha dimostrato nell'ultima raccolta, che fra l'altro è una raccolta che ha anche una caratteristica speciale, cioè è una raccolta fondata su uno sguardo radicato proprio nella civitas. È una galleria di figure che hanno dovuto affrontare in un momento speciale della loro vita un evento drammatico e che non hanno esitato a rispondere a quell'evento nel modo più generoso, più nobile, anche quando quell'evento significava la fine della loro stessa vita. Però Raffaele Fazio non è solo la sua poesia, non è soltanto lì, in questo interesse civile. E direi è radicata in una forma ancora più ampia, che è quello dell'amore per la vita, in tutte le sue manifestazioni e in tutti i suoi aspetti. Ora, qui in questo momento, noi siamo qui per festeggiare la sua prima età, diciamo il compimento della sua prima età, e quindi non per fare un'analisi critica. Per questo mi piaceva leggere un testo che in qualche modo ha a che fare con la dimensione del tempo e il lettore vedrà subito, il lettore o ora ascoltatore, vedrà subito che cos'è il tempo per Raffaele, che cos'è la vita dispiegata in una dimensione di presente che raccoglie in sé passato e futuro, espressione di una verità che accetta la vita in tutti i suoi aspetti. Il mio tempo cammina sul crinale, ritenta l'equilibrio tra gli opposti. Una valle nascosta lo precede, una piana gli succede, lo trascende. Quando il mio tempo pende sul più azzurro versante, intravede la sua stessa fine, il suo segno più in basso, come il rotolare di un sasso nell'erbetta nuova. E nella vita che senza me prosegue, forse, un ricordo di quel lieve franare, prova in fondo che oltre la morte solo l'amore è guardia di frontiera. Ecco, questa è una poesia che è tratta dall'ultimo quarto del giorno, pubblicato per La vita felice qualche anno fa. E qui sentite proprio questa fiducia nella vita e nel suo darsi, soprattutto, e questa è la lettura direi di tutta la sua opera poetica, la fiducia nell'amore, come guardia di frontiera, come appunto elemento che dà un senso al nostro stesso vivere e che, come lei stessa scrive in un'altra poesia riportata nella quarta ricopertina del libro, consente anche la dimensione della gioia, un fendente di gioia assoluta, insolente, non necessaria. Auguri, Raffaela.